Siamo in via Zamboni, zona universitaria. Sulla panchina in piazza grande, ma quando fa a metterli mercanti come me, qui non ce n'è, dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, vengono guai, mi fanno l'amore e tutto so, ciao! Ciao! Cosa abbiamo fatto oggi? Una famiglia perfettante! Allora, siamo andati a vedere la chiesa di San Pietro, la chiesa di San Patronio, che è il patrono di Bologna, poi siamo andati a vedere la zona universitaria, quindi siamo andati in via Zamboni, ci siamo presi poi una cioccolata calda in via Clavature e adesso siamo all'arco di ginnasio. Adesso andiamo in piazza San Stefano, dove c'è una delle sette chiese più famose di Bologna, però di via Puglia, ed è giù di là, ci siamo in quella stradina giù di là. E la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me, qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezza anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai mai. Sì, a un modo mio, perché sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho. Sotto le stelle in piazza grande, adesso la vita non ha sogni, Dio mio, e te ridò. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha un padrone come me. Il vino d'acqua circondava sempre tutti i castelli italiani, perché in questo modo i signori erano ancora più sicuri, perché la gente non poteva entrare nel castello. Si poteva entrare nel castello soltanto attraverso un ponte-elevatoio. Cosa vuol dire un ponte-elevatoio? Quello... Esatto. Che era tirato su e giù con delle catene. Quindi quando loro erano dentro il castello e non volevano che nessuno entrasse, tiravano su il ponte-elevatoio. Quando invece volevano far entrare le persone, con le catene tiravano giù il posto. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha un padrone come me. C'è anche il ponte che non ha un ponte... E se non c'è il cartello... E se non c'è il ponte-elevatoio, le catene tiravano un ponte-elevatoio. Mazzina! Gatti a prendere il gelato.... Andiamo a festeggiare il Capodanno ad Anno Lujano! no